siamo qui con cristian vieri appena intervenuto sul palco del social football summit 2021 bobo tv ma non solo ecco raccontaci un po non come è nata l'idea perché già lo abbiamo lo abbiamo ascoltato e sentito ma come siete riusciti voi che fate parte di una generazione poco vicina ai social ad attecchire su canali come instagram e twitch va bene intanto siamo siamo noi stessi quindi quello che vedete è come siamo quindi noi con nicola l'ele antonio tante risate siamo esportivi giochiamo a padel ora tennis facciamo delle partite a calcetto quindi siamo attivi e lo facciamo vedere sui social non quello che facciamo quindi poi dopo il lockdown parlato con loro e abbiamo deciso di organizzare questa bobo tv tutti insieme per parlare di calcio di sport di un po di tutto no come invece sarebbe stato il bobo vieri calciatore social penso che avrei preso tante multe no divertente perché comunque conosco tanti giocatori che sono divertenti no quindi con i social a quei tempi ci saremmo ammazzati dalle risate questo sicuramente bobo e ronaldo avrebbero avuto un profilo condiviso forse penso di sì bobo e ronny together sai che che bordello lì grazie mille a cristian vieri e grazie di essere intervenuto al social football summit 2021 grazie grazie mille 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 grazie mille